Sono passati quasi 9 mesi da quei 4 luglio quando una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona creando non pochi problemi. In particolare lo storico ponte sul Morbasco, distrutto e mai sistemato. Una situazione che rende l'idea di uno stato di abbandono in cui pare essere lasciata la città. C'è una manifesta volontà dell'amministrazione di non sistemare questa cosa, perché è passato un anno, lo stanziamento si poteva benissimo fare in bilancio, più che decoro io chiamerei che questo è uno degli stati di abbandono in cui versa la città di Aleppo la presentazione. Possiamo mettere tutti i totem che vogliamo in piazza Cadorna, ma penso che colpisca di più questo ponte danneggiato. Ma ad essere ancora più clamore è lo stato in cui sono ridotte le strade, piene di buche in cui gli attraversamenti pedonali ormai sono sbiaditi, mettendo a rischio la sicurezza di pedoni ciclisti. Le buche insieme alle strisce pedonali che sono completamente consumate, usurate, non si vedono, ma anche le strisce con le laterali a bordo carreggiata. Anche questo, voglio dire, il sindaco parla di 20 milioni di euro per mettere a posto tutto, mi sembra un'esagerazione. Proprio su questo argomento sarà breve presentata un'interrogazione comunale. Sì, perché voglio capire esattamente come rispondono. Sto pensando addirittura di fare la risposta scritta, perché almeno quello che viene detto viene messo nero su bianco, perché 20 milioni a me non quadra. Mi piacerebbe vedere i preventivi, poi faremo l'accesso agli atti se hanno in mano queste cifre. Ma loro mi devono dimostrare, mi devono dire perché non mettono a posto le strisce, le righe delle carreggiate e perlomeno le buche più eclatanti che ci sono in certi via della città. Aspettano forse, si vota a maggio l'anno prossimo, 2024, cominceranno a marzo. Una città si distingue anche per il suo decoro. La minoranza punta il dito sullo stato in cui versano le bandiere su alcuni immobili pubblici come le scuole. La legge dice che le bandiere devono essere fuori dagli edifici pubblici, conservate in buono stato. Ecco, noi in buono stato non ne abbiamo. Dove abbiamo tre pennoni ne abbiamo a volte una metà, quindi sono due e mezzo e due bandiere. A volte abbiamo tre bandiere su un pennone solo, oppure abbiamo tre bandiere completamente consunte, rovinate dal tempo. Dimostra proprio che questa amministrazione non ha a cuore niente.